Ebay adotta l'Aquila. Ci sarà infatti uno spazio dedicato alla città dell'Aquila su www.ebay.it slash l'Aquila, che offrirà visibilità nazionale e internazionale ai prodotti delle aziende aquilane e racconterà le storie degli imprenditori locali. Sono oltre 160.000 i prodotti attualmente in vendita in rete. Il fatturato delle piccole e medie imprese aquilane su Ebay è cresciuto del 435% rispetto ai sei anni precedenti. Tra le categorie più vendute ci sono moda, casa, arredamento e ricambi, nonché accessori. Il 2015 inoltre ha visto un vero e proprio boom dell'export delle aziende aquilane con un più 464% rispetto al 2014. In meno di 60 giorni, oltre 35 attività, hanno iniziato la loro vendita sul web, producendo già vendite e ricavi. Questa è un'opportunità che i nostri imprenditori devono conoscere e poter sfruttare.